Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace e dell'Associazione del Sacro Corso di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera ci ritroviamo per leggere e commentare le apparizioni a Santa Margherita Maria Lacocque. Oggi è il primo venerdì del mese e siamo in giugno e dunque è il mese dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, dunque una duplice occasione, il primo venerdì del mese che è tradizionalmente dedicato al Cuore di Cristo così come anche il mese di giugno. Domani sarà del Cuore Immacolato di Maria, ecco i Sacri Cuori di Gesù e Maria che ci introducono in questo mese e che ci fanno attingere in sovrabbondanza alla grazia e alla misericordia che dai loro cuori scaturisce, in modo particolare chiaramente la fonte primaria e il Cuore di Cristo. Allora vogliamo leggere e commentare questa apparizione a questa santa straordinaria Margherita Maria Lacocque che era una suora delle visitandine. Leggo soltanto qualche appunto biografico di Santa Margherita Maria Lacocque. di Santa Margherita c'è una bellissima autobiografia scritta dalla santa sotto obbedienza chiaramente perché lei per mortificarsi non voleva scrivere nulla. Però prima di entrare appunto e leggere qualche cosa della vita della santa e poi andare direttamente alle apparizioni, specialmente le tre grandi apparizioni che ha avuto questa santa, saluto tutti voi che siete in diretta. Quindi saluto Irene da Nadr, Giovanna Chiapparino, Grazia Boieri, Alessia Gianfelice, Anna Onida, Mary Rico, Cinzia Nicodemi, Roberta Vescovini, Maria Bracaglia, Emanuela Bovolenta, Bonni Scasseddu, Vincenzo Pansuto, Lucia Labbruna, Giovi Mancino, Claudio Ibriani, Sabrina Mariani, Daniel Spinella, Giussi Cocco, Cris e Laura Caruso, Domenica Cutuli, Lucia Delcore, Sabrina Mariani, Minni e Stefana, Vincenzo Tagliavia, Stefania Arena, Giovanna Moretti, Roberta Palmigiani, Ieri De Costa, Caterina Pietro, Caterina Francone, Giuseppe Conte, Rita Brillante, Rosa Giallombardo, Maria Rita Golemmo, miei collaboratori della Regione della Pace, Mena Troncone, Teresa Falco, Anastasia Fusco, Gerardina Dell'Oste, Aurelia Muglia, Rosalba Ciccarelli, Sabrina Mariani, Gianni Annarita Bruno, Gerardina Dell'Oste, Maria Rinarelli, Concetta Morale, Alessandro Rinatiranno e tutti voi che siete in diretta, siamo circa 200, bene vi chiedo di condividere questa diretta per diffondere proprio il culto di adorazione del cuore di Cristo e voi sapete che ci sono delle bellissime promesse che Gesù ha fatto a coloro che avrebbero divulgato l'adorazione e il culto del suo sagratissimo cuore, quindi anche voi entrate a far parte di queste promesse se vi impegnate a diffondere questo culto anche attraverso internet così come sto facendo io questa sera. Bene volevo anche dare un avviso, non sto più rispondendo ai messaggi su Facebook perché sono veramente centinaia, non riesco più, sto rispondendo solamente ai messaggi su Whatsapp, ancora riesco a stare dietro a questi messaggi, non so se riuscirò a rispondere a quelli su Facebook perché sono veramente accumulati e ci proverò. Come ho un po' di tempo sono stato abbastanza impegnato con dei lavori perché abbiamo fatto qui delle opere nella località dove ha sede l'associazione del sacro cuore di Gesù, cerca due mesi di lavori e quindi adesso diciamo un po' o qualche minuto in più diciamo vediamo se riesco risponderò, altrimenti vi procurate il mio numero Whatsapp e tranquillamente potete contattarmi su Whatsapp. Dunque entriamo nel vivo di questa serata, leggiamo qualcosa della la biografia di Santa Margherita Maria Lacocque. Nacque a Lautecourt nei pressi di Veros Vere nel dipartimento di Saone all'Oira della Borgogna il 22 luglio 1647. I suoi genitori erano ferventi cristiani, il padre Claude era notaio e la madre Filibert Lamine era anch'essa figlia di un notaio. Ebbe quattro fratelli, due di salute cagionevole morirono intorno all'età di vent'anni. Nell'autobiografia Margherita Maria Lacocque narra di aver fatto voto di castità all'età di cinque anni e aggiunge di aver avuto la prima apparizione della Madonna nel 1661. Dopo la morte del padre avvenuta quando lei aveva otto anni la madre la inviò in un collegio gestito da sore Clarisse dove nel 1669 all'età di 22 anni ricevette la cresima. Con l'occasione fece aggiungere al suo nome anche quello di Maria. Margherita Maria Lacocque decise di entrare in monastero e nonostante l'opposizione della famiglia che voleva per lei un matrimonio entrò nell'ordine della visitazione. Ecco dunque proprio all'interno di quest'ordine la santa ricevette queste straordinarie rivelazioni mistiche che adesso andiamo a vedere. Andiamo subito al testo. Dagli scritti di Santa Margherita Maria. Ecco la prima rivelazione del Sacratissimo Cuore di Gesù alla Santa. Una volta scrive mentre ero davanti al Santo Sacramento con un po' di tempo a disposizione che di solito i compiti affidatimi non me ne lasciavano molto, mi trovai tutta investita della sua divina presenza e con tanta forza da farmi dimenticare me stessa e il luogo in cui mi trovavo. Mi abbandonai al suo divino spirito e affidando il mio cuore alla potenza del suo amore mi fece riposare a lungo sul suo divin petto e mi scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo sacro cuore che mi aveva tenuti nascosti fino a quel momento nel quale me lo aprì per la prima volta e lo feci in modo così reale e sensibile da non permettermi ombra di dubbio dati gli effetti che questa grazia ha prodotto in me anche se temo sempre di illudermi in tutto ciò che mi riguarda. Ed ecco come mi sembra siano andate le cose. Mi disse il mio divincuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore senza il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza necessarie per ritrarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te abisso di indegnità e di ignoranza affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio. Poi mi domandò il cuore e io lo supplicai di prenderlo. Lo prese e lo mise nel suo cuore adorabile nel quale me lo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella fornace ardente. In un secondo tempo lo riterò come fiamma incandescente in forma di cuore e lo rimise dove l'aveva preso dicendomi eccoti mia deletta un prezioso pegno del mio amore che racchiude nel tuo costato una piccola scintilla delle sue fiamme più vive affinché ti serva da cuore e ti consumi fino all'ultimo istante della tua vita. Il suo ardore non si estinguerà mai e potrà trovare un po' di refrigerio soltanto in un salasso che io segnerò talmente col sangue della mia croce da fartene riportare più umiliazione e sofferenza che il sollievo. Per questo voglio che tu chieda con semplicità questo rimedio sia per mettere in pratica ciò che ti viene ordinato sia per darti la soddisfazione di versare il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni. E insegno che la grande grazia che ti ho concessa non è frutto di fantasia ma il fondamento di tutte le altre grazie che ti farò il dolore della ferita del tuo costato benché lo abbia già richiusa durerà per tutta la tua vita e se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio sacro cuore. Dopo questo insigne favore che durò per molto tempo durante il quale non sapevo se mi trovassi in cielo o in terra stetti parecchi giorni come tutta infiammata e inebriata talmente fuori di me da non potermi riavere né poter pronunciare parola se non con grande sforzo e dovevo farmi ancora più violenza per riuscire a mangiare per partecipare alla ricreazione comune perché non avevo più forza e per superare la mia sofferenza. Mi sentivo profondamente umiliata non riuscivo a dormire perché la ferita il cui dolore mi è così prezioso mi causa delle vampate così ardenti da consumarmi e bruciarmi viva. Mi sentivo poi tanta piena di Dio che non riuscivo a spiegarlo alla superiore come avrei desiderato e fatto anche se a riferire queste grazie mi mette sempre in uno stato di confusione e di vergogna a causa della mia indegnità preferirei piuttosto rivelare al mondo intero i miei peccati. Sarebbe stata per me una consolazione se mi avessero permesso di fare il refettorio ad alta voce la confessione generale per mostrare l'abisso di corruzione che è in me e perché non si attribuissero a mio merito le grazie che ricevevo. Ecco carissimi e carissime questa è la prima rivelazione del Sacratissimo Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria la Cocca. Questa bella immagine che mi accompagna da circa 30 anni e mi aiuta tantissimo nel mio cammino del culto di adorazione e di devozione verso il cuore di Cristo. È una immagine antica, un Sacro Cuore così come è apparsa la Santa che è coronato di spine, circonfuso di gloria, sormontato dalla fiamma nella quale vi è la croce e squarciato dalla lancia da dove fuoriesce sangue e acqua. Questa è l'immagine classica del Sacratissimo Cuore di Gesù, che sono tutti i simboli che la Santa vede nell'immagine del Cuore di Cristo. Adesso andiamo a leggere dall'inizio, cerchiamo di commentare questa apparizione straordinaria, poi ce ne saranno altre due, ancora più grandiose. Dunque, dice la Santa, una volta, mentre ero davanti al Santissimo Sacramento, con un po' di tempo a disposizione, mi trovai tutta investita della sua divina presenza e con tanta forza da farmi dimenticare mi stessa e il luogo in cui mi trovavo. Dunque la Santa, come anche un'altra grande Santa, Santa Faustina, riceve questa rivelazione davanti al Santissimo Sacramento. Stamattina ho partecipato per qualche minuto ad un momento di adorazione del cuore eucaristico di Gesù dopo la Santa Messa. Ho avuto la grazia di poter celebrare due sante messe con sempre una profonda esperienza della presenza di Gesù nel Sacramento dell'Eucaristia. Ecco, Santa Margherita attinge alla presenza di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia e lui si rivela a lei proprio per la sua fede ardente, nella sua presenza reale. Gesù stesso ha detto appunto anche ad un'altra Santa, a Faustina Kowalska, che nell'Eucaristia lui vuole concedere tantissime grazie, che l'Eucaristia viene con le mani piene di grazie, ma le deve riportare indietro perché nessuno le vuole. Ecco, carissime e carissime, io vi esorto ad andare in chiesa e a sostare specialmente dove è esposto davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Nel Santissimo Sacramento c'è Cristo vivo, lì c'è la presenza di Gesù reale, in corpo, sangue, anima e divinità. Presenza reale che purtroppo molti stanno smarrendo o hanno già smarrito. In tanti non credono più che Gesù sia vivo e vero nel Sacramento dell'Eucaristia. Noi che invece siamo cristiani cattolici dobbiamo affermare con forza, con chiarezza, con parresia, che crediamo che Gesù è presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare e che vogliamo onorarlo in tutti i modi possibili perché non c'è una presenza più straordinaria, più grande, così piena della divinità di Cristo come quella che noi incontriamo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Quindi vi raccomando, oltre a consigliarvi la partecipazione alla Santa Messa quotidiana, partecipate anche all'adorazione Eucaristica dovunque la trovate. Continua la Santa. Mi abbandonai al suo divino Spirito e affidando il mio cuore alla potenza del suo amore mi fece riposare a lungo sul suo divin petto e mi scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo cuore. Ecco, capite che esperienza straordinaria. Gesù si manifesta alla Santa, si affida a lei allo Spirito Santo che è la potenza dell'amore di Cristo, che è persona, la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito di amore del Padre e del Figlio e lì la fa riposare sul suo divin petto, così come vi riposò l'Apostolo Giovanni nell'ultima cena. E là gli scopre le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo sacro cuore. Quindi non a tutti Gesù rivela questi segreti del suo sacro cuore nel sacramento dell'Eucaristia. Soltanto a coloro che si rendono degni, tant'è che la Santa aggiunge che questi segreti inesplicabili e queste meraviglie del suo amore glieli aveva tenuti nascosti fino a quel momento. Dunque, ecco, c'è una crescita nella conoscenza dell'amore di Dio. Ci sono dei segreti misteriosi e divini che Dio rivela soltanto ai Suoi amici più intimi. E in questo caso ecco che la Santa è tra questi che pogliano il capo sul cuore del Salvatore. Che esperienza straordinaria. È stato un momento di paradiso, un'anticipazione di quello che è il paradiso. Mi disse, il mio divincuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé stesso le fiamme del suo ardente amore, senza il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza necessarie per ritrarli dal precipizio della perdizione. Ecco perché Gesù rivela il suo sacratissimo cuore alla Santa, perché in esso vi sono contenuti tutti quei doni, tutte quelle grazie santificanti e in ordine alla salvezza che sono necessarie per ritrarre gli uomini, ritrarre gli uomini dal precipizio della perdizione, cioè della dannazione eterna. E questo cuore è appassionato d'amore per gli uomini, così come Gesù nell'ultima cena disse «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dicono la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ancora ad un'altra mistica sembra che Gesù abbia rivelato che nel Gezzemani il sangue di Gesù gli ribolliva nelle vene, tanto era acceso di amore per gli uomini e tanto era grande il suo desiderio di sacrificare la sua vita. L'amore di Dio è qualcosa di immenso, di infinito, di divino. Non possiamo neanche intuire una parte minima della grandezza straordinaria e infinita dell'amore di Dio. Possiamo intuire una parte infinitesimale di quest'amore. E già questa, se noi la intuissimo, così come ha fatto la Santa, ci consumerebbe come ha consumato lei. E non penseremmo ad altro se non all'amore di Dio, se non andare di gloria, se non a diffonderne il culto, se non ad onorarlo in tutti i modi, se non a fare sacrifici per Lui. Ecco, dobbiamo sforzarci di amare il cuore di Cristo, perché ci ama di un amore infinito. Poi continua Gesù, la Santa, «Poi mi domandò il cuore e io lo supplicare di prenderlo». Ecco, Gesù chiede alla Santa il suo cuore, il suo cuore umano. E io lo supplicare di prenderlo. Anche noi dobbiamo consacrare i nostri cuori al Sacratissimo Cuore di Gesù per mezzo del Cuore Immacolato di Maria. Questo lo dobbiamo fare spesso, consacriamo il nostro cuore. Il cuore nella scrittura viene indicato con questo termine, Lev Levab, che vuol dire anche intelligenza, ma vuol dire anche la parte più intima dell'uomo, dunque il cuore dell'uomo. E noi dobbiamo consacrare il nostro componente intellettuale, affettiva, sentimentale, volitiva, mnemonica tutto il nostro essere interiore al cuore di Cristo. Questo intendiamo col cuore, non tanto l'organo che batte e che pulsa per inviare il sangue in tutto il corpo, per far circolare il sangue dentro le vene. No, ma il cuore è la parte più intima del nostro spirito. E tutte le altre facoltà che la circondano, tutte le altre facoltà che la corroborano, tutte le altre facoltà che noi abbiamo per poterci esprimere come esseri umani e ancora di più come figli di Dio. Dunque offriamo i nostri cuori al cuore di Cristo, specialmente questa sera. Consacriamo il nostro cuore al cuore di Gesù in questo primo veredì del mese di giugno, che è il primo giugno, come una porta spalancata che ci introduce nel mistero dell'amore di Dio. Presse il cuore della Santa e lo mise nel suo cuore adorabile, nel quale glielo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella fornace ardente. Ecco, il nostro cuore rispetto al cuore di Cristo è un piccolo atomo. E Gesù ha elargito di questa grazia straordinaria la Santa, cioè ha introdotto il cuore della Santa nell'intimo del suo cuore. E questo cuore divende una fiamma incandescente. Bene, adesso voglio andare avanti con la seconda rivelazione del Sacratissimo Cuore di Gesù, perché il tempo sta volando velocemente. Il dolore del costato, al quale ho appena accennato, si rinnovava ogni primo venerdì del mese in questo modo. Ecco, oggi è il primo venerdì del mese. Il Sacro Cuore mi si presentava come un sole sfolgorante di vivissima luce, i cui infuocati raggi cadevano a piombo sul mio cuore, che subito si accendeva di fuoco tanto ardente che sembrava dovesse ridurmi in cenere. In quell'occasione il Divino Maestro mi manifestava ciò che desiderava da me e mi svelava i segreti del suo dolce cuore. Quindi ogni primo venerdì del mese si rinnovava il dolore che aveva nell'intimo del cuore. E il cuore di Gesù la inondava come un sole sfolgorante di vivissima luce, i cui infuocati raggi cadevano a piombo sul suo cuore, che si accendeva di un fuoco tanto ardente che sembrava doverla ridurre in cenere. Capite che esperienze mistiche straordinarie. Qui siamo nell'ambito proprio del Divino. Sono esperienze che solo Dio può far provare ad un essere umano. E il cuore dell'uomo riesce a contenerle in qualche misura, sia principalmente per l'aiuto Divino, ma anche perché noi siamo fatti per questo amore. Noi siamo fatti per il cuore di Cristo. Una volta in particolare, mentre era esposto il Santo Sacramento, sentendomi tutta assorbita nell'intimo del mio essere per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie facoltà, Gesù Cristo, il mio dolce Maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe sfolgoranti come cinque soli, e con alta straordinaria esperienza sempre davanti al Santissimo Sacramento. Capite perché bisogna andare in Chiesa? Perché molti dicono, ma Dio non è presente in cielo e in terra in ogni luogo. Che bisogno c'è di andare in Chiesa? E no. In Chiesa c'è la presenza reale di Gesù. La Chiesa è il Tempio di Dio. La Chiesa è un luogo santo. E oggi pensiamo a quanti sacri leggi vengono fatti nelle Chiese. Qualcosa di spaventoso. Quindi noi dobbiamo rispettare i luoghi santi, andare vestiti decentemente, rimanere in silenzio per contemplare la presenza di Dio e non disturbare gli altri che stanno pregando. Partecipare alla Santa Messa con fervore, come se fosse la prima, l'unica e l'ultima Messa della nostra vita. Dobbiamo inginocchiarci davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, dove il cuore eucaristico di Cristo continua a sprigionare i fiammi di amore verso di noi. Nessuno che si presenta davanti di Gesù con un cuore colmo di fede, se ne ritorna a mani vuote. Gesù non lascia nessuno senza doni, senza le sue grazie. E si possono ottenere anche grazie straordinarie, sia nella Messa, sia durante l'adorazione eucaristica. Continua la Santa. Fu allora che mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino al quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudini e indifferenza. Mi viene in mente il poverello di Assisi, San Francesco, che andava girando per Assisi credendo l'amore non è amato, l'amore non è amato. L'amore di Dio ci ama con un amore infinito, un amore sacrificale e non riceve da molti altro che ingratitudini e indifferenza. Questo mi disse, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite primure che mi prendo per far loro del bene. Capite quali sono i sentimenti del cuore di Gesù? Lui ci ama di quest'amore e invece gli uomini lo ricambiano con freddezze e ripulse e tante volte con sacrileggi, bestemmie, dissacrazioni, oltraggi e lui invece si prende cura di noi con infinite premure per farci del bene. Grazie dal profondo del cuore Signore Gesù. Questo primo venerdì del mese ti vogliamo ringraziare e benedire e vogliamo anche fare atto di ammenda e di riparazione di tutti questi oltraggi e sacrileggi che ricevi nel tuo Sacratissimo Cuore, nel tuo purissimo amore, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Continua il Sacro Cuore di Gesù rivolto alla Santa. Almeno tu dammi gioia. E questo lo dice a ciascuno di noi, carissimi e carissime, almeno tu dammi gioia. Signore Gesù, come fare per poterti dare gioia? Noi vogliamo darti gioia, ti vogliamo consolare, Signore, affinché la tua agonia mortale sia un po' più consolante, un'agonia che invece è desolata, un'agonia che giunge quasi ad un'oppressione che non so come definire. Vorrei dire una parola ma non la dico. Ecco, è un'agonia spaventosa quella che il tuo cuore, Signore Gesù, subisce ogni giorno a causa dei peccati mortali di gran parte dell'umanità e alcune volte anche da parte dei tuoi eletti. Fai che noi, Signore Gesù, possiamo darti gioia. E questa sera, con questa catechesi, con questo momento in cui meditiamo sulle tue sante parole e sull'esperienza straordinaria di Santa Margherita Maria LaCocca, con questa sera noi possiamo darti un po' di gioia. Almeno tu, continuo il cuore di Cristo, dammi gioia di compensare, per quanto ti è possibile, la loro ingratitudine. Confessando io la mia incapacità, mi rispose, tieni, eccoti con che suppliche alla tua pochezza. E in quel mentre il divin cuore si aprì e ne uscì una fiamma così ardente che temetti di esserne consumata perché ne fui tutta penetrata e non potendo più sostenerla, gli chiesi compassione per la mia debolezza. Ed egli, sarò io la tua forza, non temere, ma presta sempre attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo per portare a termine i miei disegni. E quel fuoco che esce dal cuore di Cristo sembra proprio come una fiamma viva, una fiamma quasi reale, una fiamma fisica che quasi la consuma e la incenerisce se Dio non la sostenesse. Mi viene in mente anche la Pentecoste di San Filippo Neri, un globo di fuoco mentre lui era in contemplazione e in estasi con la bocca aperta, gli entrò nella bocca e penetrò nel suo cuore e il suo cuore incominciò a pulsare in modo così forte che gli spostò le costole. Da quel momento in poi San Filippo Neri è per le costole spostate a causa di quella fortissima pulsazione del suo cuore. Noi siamo veramente in nulla dinanzi a Dio, siamo qualcosa di piccolissimo, ecco così come la Santa vede il suo cuore come un atomo, un atomo. E voi pensate quanta superbia tante volte c'è nel cuore degli uomini. Le parole della nostra Natuzza da Paravati ve le dico prima in dialetto poi in italiano Io sogno no vermi di terra, io sono un verme di terra, ecco i santi si considerano vermi di terra e gli uomini peccatori e superbi si considerano altre divinità quasi. È qualcosa di assurdo, noi siamo il nulla fatti persona. Dio è tutto, noi siamo niente. Però noi possiamo diventare tutto in Dio, perché Dio viene tutto in noi. Finché Cristo, dice San Paolo, sia tutto in tutti. E dunque nel momento in cui Dio viene in noi, siamo il nulla nel tutto e diventiamo tutti nel tutto che è in noi. Primo vererdì e ora santa. Vediamo cosa il Signore desidera nel primo vererdì del mese. Prima di tutto mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni, che tu accetterai come pegno del mio amore. come vi dicevo io sono circa trent'anni che adoro il cuore di Cristo, che lo venero, che ne diffondo il culto e ho capito tre parole importanti del culto e del cuore di Cristo, che sono queste, consacrazione, riparazione, umiliazione. Queste sono tre parole fondamentali per coloro che vogliono essere adoratori del cuore divino di Gesù, devono consacrarsi a Lui, devono riparare i propri peccati e i peccati dell'umanità, devono umiliarsi e se non si umiliano loro li umilierà lo stesso cuore di Cristo, per renderli conformi a sé, che è il più umiliato di tutti. Pensate all'umiliazione che Gesù ha subito da parte dei soldati, quando è stato trattato come un re da burla, incoronato di spine, sputato, schiaffeggiato, scarnito e poi percosso con la canna, coperto con un manto sporco e trattato come un pagliaccio. Guardate dove è giunto l'amore di Dio, nel figlio suo Gesù Cristo, l'unigenito del Padre. Ecco, se Gesù ha passato tutto questo, coloro che adorano il suo sagratissimo cuore non possono pensare di essere onorati in questo mondo. Coloro che adorano il cuore di Cristo in questo mondo devono ricevere molte umiliazioni, anzi devono saziarsi di umiliazioni. Ma sappiamo anche un'altra cosa, chi Gesù ha detto, chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Ecco perché Santa Margherita Maria Lacocca subiva una profondissima umiliazione, proprio per le grazie speciali, straordinarie che lei aveva ricevuto e lo stesso Santa Faustina Kowalska, poiché l'apparizione della Vina Misericordia non è altro che una continuazione della rivelazione del Sacro Cuore di Gesù. Anche lei ha avuto tantissime umiliazioni, si è saziata di umiliazioni, quindi coloro che amano Gesù devono sapere che devono fare questo cammino, consacrazione, riparazione, umiliazione. Prima di tutto, continua il Signore, mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni che tu accetterai come pegno del mio amore. Accettare le mortificazioni e le umiliazioni come pegno dell'amore di Cristo. Inoltre ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese e infine tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì ti farò partecipi di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli olivi. Ecco la Santa deve riparare sia quello che hanno fatto gli apostoli nell'orto degli olivi, cioè si sono addormentati e hanno trascurato il loro Signore, non hanno vigliato. E allora la Santa nella lotta che vada al giovedì al venerdì deve fare l'ora santa e parteciperà dell'umiliazione e della sofferenza e della tristezza mortale che Gesù patì nell'orto degli olivi. Sarà un'amarezza che ti porterà senza che tu possa comprenderlo ad una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora in mezzo alle mie angosce presentai al Padre ti alzerai fra le undici e mezzanotte per prostrarti con la faccia a terra insieme a me per un'ora. Ecco carissimi, chi riesce a fare questa ora santa in questo giorno, cioè dal giovedì al venerdì, dalle undici e mezzanotte, si unisce al cuore sagratissimo di Cristo che soffre, che agonizza per amore nostro e ripara tutte le ingratitudini, le freddezze, le mancanze di amore e di preghiera da parte degli apostoli e di tutti i discepoli di Gesù. E sicuramente riceverà tantissime grazie. E questo sia per placare la divina collera, col chiedere misericordia per i peccatori, sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che provai per l'abbandono dei miei apostoli, che mi obbligò a rimproverarli di non essere stati capaci di vegliare un'ora assieme a me. Dunque per due motivi bisogna fare questo, per placare la divina collera, col chiedere misericordia per i peccatori. Queste parole oggi non vengono più accettate, è Cristo che parla. Cioè quando si tratta della collare di Dio, cioè della giusta punizione nei riguardi di chi pecca contro di Lui, questo non vuole essere accettato, ma è Gesù che parla. E poi per addolcire in qualche modo l'amarezza che il Signore prova nell'essere abbandonato dai Suoi Apostoli, i quali non sono stati capaci di vegliare un'ora sola con Lui. Ascoltami bene figlia mia, non credere tanto facilmente e non fidarti di qualsiasi spirito, perché Satana smania ad ingarnarti. Per questo non devi far niente senza l'approvazione di coloro che ti guidano, perché quando sei autorizzata dall'obbedienza il demonio non ti può nuocere, non avendo nessun potere su quelli che obbediscono. Ecco questa è una cosa importante riguardo al discernimento degli spiriti, chi ha delle rivelazioni mistiche particolari deve rimanere nell'obbedienza, perché Satana si infiltra e specialmente dove c'è la superbia, lì non c'è lo spirito di Dio. Quindi se voi vedete delle persone che dicono di avere l'apparizione della Madonna, le parezioni del Sacro Cuore, ma sono superbi, sono arroganti, sono attaccati al denaro, pensano alle cose di questo mondo, quelle persone non hanno nessuna rivelazione. Al contrario, chi ha una rivelazione autentica di Dio è una persona umile, è una persona che fa il cammino del Calvario, è una persona che è disprezzata nel mondo, è una persona che non è attaccata ai beni materiali, è una persona che cammina guardando sempre verso il Regno dei Cieli. Perché a Dio nel cuore. Adesso siamo aggiunti alla terza grande rivelazione. Una volta, mentre ero davanti al Santissimo Sacramento, ecco come vedete, tutte queste rivelazioni avvengono davanti al Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù. Era il giorno dell'ottava del Corpus Domini. Ecco invece per noi, in tutte le diocese del mondo, credo, il Corpus Domini è stato ieri, mentre poi nelle parrocchie si celebrerà domenica. Dunque, ecco proprio il giorno del Corpus Domini, era l'ottava, perché nel passato per tutta l'ottava del Corpus Domini si facevano le processioni eucaristiche, che ormai sono state tolte dappertutto e si fanno soltanto il giorno del Corpus Domini. E invece era bene continuare a mantenere questa tradizione santa di fare la processione con il Santissimo Sacramento per tutta la settimana fino all'ottava. Ecco, dunque sempre in riferimento al Corpo di Cristo avvengono le apparizioni del Sacratissimo Cuore di Gesù. Una volta dunque, mentre ero davanti al Santissimo Sacramento, ricevette dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mi sentì spinta dal desiderio di ricambiarlo e di rendergli amore per amore. Egli mi rivolse queste parole. Tu non puoi mostrarmi amore più grande che facendo ciò che tante volte ti ho domandato. Allora scoprendo il suo divino cuore mi disse, ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il tuo amore. In segno di riconoscenza però non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo Sacramento di amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Gesù ha rivelato più volte che la ferita che fa più soffrire il suo adorabilissimo cuore è proprio la ferita che ha lasciato il suo cuore. E questa ferita viene a lui attraverso i suoi consacrati, i suoi ministri. Questo lo fa soffrire in un modo mortale, ricevere oltraggi, sacrilegi, freddezze, irriverenze, disprezzi da parte dei suoi ministri, da parte dei suoi consacrati. È terribile questo. Noi che siamo coloro che dovremmo onorare, esaltare, benedire, amare il cuore di Cristo così come l'eucaristia che il cuore eucaristico di Gesù, tante volte rischiamo di essere freddi, di non riuscire a capire che c'è la sua presenza reale, di non esaltarlo dinanzi ai fedeli. Quanto bene ci sarebbe per tutta la Chiesa se tutti i sacerdoti, tutti i vescovi esaltassero con tutte le loro forze il cuore eucaristico di Gesù, se facessero adorazioni eucaristiche in tutte le parrocchie, in tutte le associazioni, in tutte le diocesi, se ci fossero più luoghi dove si potesse fare l'adorazione perpetua, dove degli animi si alternassero giorno e notte nell'adorare il cuore eucaristico di Cristo. Le grazie che ne sgorgerebbero sarebbero sovrabbondanti, verrebbero trasformate in breve molte diocesi, molte parrocchie, molte comunità. Invece purtroppo questo non avviene. I luoghi dove si adora il Signore sono sempre di meno. I sacerdoti che hanno una fervente fede eucaristica sono sempre di meno. I religiosi che stanno in ginocchiati a consumarsi davanti al Santissimo Sacramento sono sempre di meno. Tutti sono affannati a correre a destra, a sinistra, a fare questo e quell'altro e a trascurare il cuore eucaristico di Gesù. Per questo ti chiedo, continua il Signore, che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore. Ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri. E carissimi, devo essere testimone di questo. Gesù ha detto che fonderà grazie sovrabbondanti su tutte le opere di coloro che avrebbero diffuso il culto del suo Sagratissimo Cuore. Io devo essere sincero, ne ho viste a bizzeffe di grazie straordinarie. Io ho visto tante benedizioni sulle opere, anche schiaramente tante lotte in trent'anni che non sto qui a denumerare. Tante lotte, tanti attacchi, Satana è feroce contro coloro che servono il Cuore Sagratissimo di Cristo. E li attacca in tutti i modi a 360 gradi, all'interno e all'esterno, per mezzo degli amici e per mezzo dei nemici. Ma sono come il Cuore di Cristo circondati dalle spine, coloro che hanno il fervore di far onorare questo adorabilissimo Cuore. Ma Gesù li protegge, quelle spine li feriscono, ma nello stesso tempo li proteggono da attacchi peggiori. E sempre più si rafforzano nell'uomo interiore e crescono di giorno in giorno nella vita spirituale e nella conoscenza di Dio. Mentre coloro che non hanno questo amore verso il Sagratissimo Cuore sicuramente non hanno tantissime grazie. Voglio leggere anche la visione della Santissima Vergine perché domani è anche la festa del Cuore Immacolato di Maria, il primo sabato del mese. La tenere filiale e devozione che Santa Margherita Maria nutriva verso la Santissima Vergine le valsero dalla grande consolazione di varie sue apparizioni, tra cui una molto consolante, dalla Santa così descritta in una delle sue lettere. Quella regina di bontà, aditando il divino cuore, continuò rivolta alle sue figlie. Ecco il prezioso tesoro manifestato a voi in modo particolare. Dal tenere amore del figliuolo mio verso il vostro istituto, che egli considera e ama come il suo caro Beniamino e che perciò vuole arricchire di questa eredità sopra tutti gli altri. dunque il cuore di Cristo ha un amore particolare verso l'istituto della visitazione e qualche anno fa tutti i vescovi calabresi hanno consacrato la Calabria al Sacratissimo Cuore di Gesù e ciò è avvenuto in un convento di clausura della visitazione che si trova a Reggio Calabria. Mi è stato detto, cosa che non sapevo, che è stato il Sacro Cuore a chiedere questa consacrazione per mezzo di una suora. Speriamo che questa consacrazione, che è stata fatta dai vescovi e da tutti i sacerdoti, almeno quelli che hanno voluto, perché i vescovi hanno chiesto a tutti i sacerdoti che la Calabria fosse consacrata al Sacratissimo Cuore di Gesù e anch'io l'ho fatto in quel giorno, speriamo che questa consacrazione possa preservare la Calabria, le diocesi calabrese, le parrocchie calabrese da tanti mali che oggi stanno diffondendosi come una peste in tutta la Chiesa Cattolica. Specialmente che noi possiamo essere preservati dalle eresie e dall'apostasia dilagante che ha svuotato della fede intere nazioni, come ormai vediamo per tante nazioni del nord dell'Europa, che prima si sono protestantizzate e poi si sono ateizzate. Adesso voglio leggervi e concludiamo le promesse del Sacratissimo Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Lacoque, ma che possono essere applicate a tutti i devoti del Sacro Cuore di Gesù. Ve le leggo queste promesse dal sito della nostra associazione, così lo vedete e potete andare a trovare tanti contenuti. Ecco questo è il nostro sito. Vedete in alto a sinistra una mia immagine con San Giovanni Paolo II, è l'immagine che rappresenta il pulsante per accedere alla mia pagina personale. Ecco, in occasione di questa foto io ho incontrato appunto il Sommo Pontepice San Giovanni Paolo II e questo è stato un segno che io chiesi al Signore, al Sacro Cuore di Gesù, se avessi dovuto fondare, se lui voleva e benediva la fondazione di questa associazione. E chiesi proprio questo, cioè se lui voleva la fondazione dell'associazione, l'approvazione di quello statuto che io scristi di getto, e poi modificai di qualche piccola cosa, dicevo, scrissi di getto davanti al Santissimo Sacramento in adorazione e chiesi di poter celebrare la Santa Messa al fianco di Giovanni Paolo II. Il giorno dopo ero al fianco di San Giovanni Paolo II a celebrare la Santa Messa e dunque mi era stato accordato questo segno. E allora mi decisi di iniziare questa associazione, ma poi chiesi anche un'altra cosa, Anatuzza da Paravati, se il Signore era contento della fondazione di questa opera e lei mi rispose con molta semplicità, Gesù e Maria vi sono vicini. Io prego per voi. Ecco, dunque Gesù e Maria è in effetti non solo il Cuore di Cristo, ma in questo cammino ho sentito sempre anche questo trasporto verso la Beata Vergine Maria e anche di diffonderne la devozione e i messaggi. Come sapete, attraverso le pagine sia della Regione della Pace e adesso anche divulgo i messaggi della Regione della Pace di Anguera, che sono molto importanti perché sono dei messaggi profetici che ci fanno comprendere il tempo attuale. Quindi potete andare, troverete anche il 5x1000. Ecco, lo visualizzo un attimino perché è importante, la nostra associazione vive di solidarietà. Non abbiamo altra possibilità di sostentarci se non la solidarietà. Ecco, questo è il numero della nostra partita IVA. Tanti di voi già mi hanno detto che hanno dato il 5x1000, quindi le ringrazio di cuore e ringrazio anche tutti gli altri che avranno la bontà di donare il 5x1000. Sapete che non costa nulla, basta soltanto nella dichiarazione dei redditi indicare la nostra partita IVA e subito viene donato questo 5x1000, che non è una grande cifra, ma se si moltiplica per centinaia e se Dio vuole per migliaia, allora diventa una bella cifra che arriverà dopo circa due anni, ma si semina oggi per raccogliere domani. Quindi grazie a tutti voi che ci darete il 5x1000. Ritorno alle dodici promesse del Sagratissimo Cuore di Gesù. Ecco allora. Leggiamo. Mostrando un giorno il suo sacro cuore a Santa Margherita Maria la Cocca, Gesù disse Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e dai quali non riceve che ingratitudini e disprezzo. In diverse apparizioni a Santa Margherita, Gesù fece le seguenti promesse per coloro che avessero onorato il suo cuore e che la Santa riporta nelle sue lettere. Volevo anche anticiparvi che a Dio piacendo l'ultima domenica del mese di giugno ci sarà qui in località Salvatore la festa del Sagratissimo Cuore di Gesù. È un modo per onorare il Sacro Cuore, quindi vi invito a partecipare numerosi, venite anche da altre parti, ecco già le adorazioni che facciamo partecipano anche da fuori regione. Per la festa penso che sia una bella occasione, se poi qualcuno volesse organizzare anche dei pullman sarebbe una cosa meravigliosa. Già siamo centinaia le persone che partecipiamo a questa festa, iniziamo la preghiera alle 15 del pomeriggio e andiamo avanti fino alle 20 e 30 circa ed è veramente un momento bellissimo di preghiera, molto intenso attraverso il quale si ottengono anche tante grazie e qualcuno me lo ha testimoniato questo. Ecco allora vi ricordo dunque il 24 giugno la festa del Sagratissimo Cuore di Gesù in località Salvatore nella provincia, nel comune di Gerocarne, provincia di Viborenzia. Diocesi di Mileto, Nicotera Tropea. Ecco allora leggiamo queste promesse. Prima promessa, darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. Ecco ciascuno riuscirà a vivere secondo il proprio stato, chi è un consacrato da consacrato, chi è sacerdote da sacerdote, chi è sposato da sposato, chi è celibe da celibe, cioè darà il Signore le grazie necessarie perché ciascuno possa vivere santamente nel suo stato di vita. Seconda promessa, porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise. Pensate quant'è meravigliosa questa promessa in questo tempo in cui c'è una catastrofe a livello familiare, in cui i divorzi e le separazioni stanno ormai dilagando. A Torino c'è l'ottanta per cento dei divorzi. Gesù ha promesso, non è un uomo che promette, è Dio che promette e Dio mantiene sempre le sue promesse. Dunque coloro che avessero onorato il suo sacro cuore avrebbero ricevuto la pace nella loro famiglia e di nuovo la comunione e porterà soccorso alle famiglie in difficoltà. Dunque rileggo così come è scritta la promessa. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise. Cosa bisogna fare? Prendere una bella immagine nel sacratissimo cuore di Gesù, metterla nel posto più bello della casa e tutti i giorni onorarlo, pregarlo, implorarlo, adorarlo. E in quelle famiglie Gesù ha promesso che avranno il soccorso nelle difficoltà e che dove c'è la divisione ci sarà la pace. Terza promessa. Li consolerò nelle loro afflizioni e chi non è afflitto oggi o poco o molto tutti riceviamo delle afflizioni. Il Signore promette che ci avrebbe consolato. Vi posso garantire che è proprio così. Le afflizioni non mancano ma le consolazioni a volte sovrabbondano. Quarta promessa. Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. Che meraviglia carissimi e carissime. Cioè avere un rifugio in vita e specialmente nel momento più difficile della vita che è la morte. Il cuore di Cristo ci abbraccerà, ci custodirà, ci proteggerà dagli attacchi di Satana e ci condurrà nel regno beato dei cieli. Ecco, guardate, con dei gesti così semplici, con la devozione al suo sacratissimo cuore, il Signore ci sta promettendo cose straordinarie. Ma perché non farlo? Quinta promessa. Spargerò abbondanti benedizioni, soprattutto le loro opere. Ve lo dicevo prima. Ecco, anche quest'opera dell'Associazione del Sacro di Gesù ha avuto mille e mille difficoltà di tutti i tipi. Non sto qui a denumerarle. Eppure nessuno è riuscito a distruggerla. Quest'opera va avanti e si diffonde sempre più e sicuramente sarà un bel germoglio vivo di fede che porterà dei bei frutti per tantissime anime, così come già li sta portando e voi questa sera siete già uno di questi frutti. E ringrazio il cuore di Cristo per ciascuno di voi che è qui in diretta e per le vostre famiglie. Perché è la mia gioia come sacerdote poter dare alle anime la grazia di Dio, la parola di Gesù, la misericordia del cuore sacratissimo di Cristo. Sesta promessa. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della misericordia. Chiaramente i peccatori che si pentiranno. Ecco, i peccatori trovano l'oceano e la fonte della misericordia perché troveranno perdono. Alla richiesta di perdono riceveranno il perdono. Alla richiesta di misericordia riceveranno la misericordia. Però chiaramente con la condizione di voler lasciare il peccato perché altrimenti confondiamo tutto. Settima promessa. Riporterò le comunità religiose e i singoli fedeli al loro primo fervore. Voi pensate quanta mediocrità oggi c'è in alcune congregazioni religiose. Lo constatiamo. Hanno lasciato il fervore iniziale. Pensate un po' al fervore di un Francesco d'Assisi, di un San Giovanni di Bosco, di un San Domenico e di tanti altri santi, di un San Benedetto. Mamma mia! Alcuni ordini religiosi sono ridotti veramente ai minimi termini. Che Dio abbia misericordia. Ecco, se avessero questa prudenza, questa saggezza di tornare al cuore di Cristo e di onorarlo, questi ordini religiosi diventerebbero in breve fervorosi, così come anche i singoli fedeli. Ottava promessa. Le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione, cioè si faranno santi. Non la promessa. Benedirò i luoghi, doi l'immagine del mio sacro cuore, verrà esposta ed onorata. Quindi mettete tante immagini del cuore di Cristo e anche di Gesù Divina Misericordia. Dovunque metterete queste immagini saranno luoghi benedetti. Voi pensate quanto bisogno c'è oggi di benedizione, anche perché le maledizioni si moltiplicano a causa degli operatori dell'occulto e dei milioni e milioni di persone che vanno da maghi, fattucchieri. Ho letto una cosa, ve la voglio leggere questo avviso, che è spaventoso quello che sta avvenendo. Ormai non hanno più vergogna di nulla. È veramente qualcosa di spaventoso il satanismo come si sta diffondendo. E vi leggo questo messaggio che mi è stato inviato. Credo che sia un messaggio autentico. Carissimi, a tutti noi è arrivata la notizia che a Sermoneta Latina, nei giorni 1-3 giugno, si svolgerà il Festival della Magia e dell'Occulto, quindi dovrebbe essere già iniziato questa sera. In una chiesa sconsacrata. Mi dicono che anche Latina è tappezzata di questi cartelloni. Quanti giovani finiscono in questa trappola? Promesse di miracoli, rivelazioni, strabilianti, doni straordinari a disposizione di tutti. È chiaro, Satana li dà queste cose. Ma noi sappiamo che per ogni piano da parte delle tenebre esiste un piano di vittoria nascosto nel cuore di Dio. E basta mettersi a pregare per attuarlo. Come sono crollate le mura di Gerico, così noi, pregando intensamente. In questi pochi giorni che ci sparano dall'evento, faremo crollare il piano del nemico. Quindi preghiamo già questa sera, carissimi. Altrimenti tantissime maledizioni ricadranno non solo su Latina, ma anche su Roma e su tutta l'Italia e sull'intera umanità. E ancora, ecco, non so se ne siete a conoscenza, ma in questo evento folle si raduneranno i più grandi satanisti d'Italia. Terribile, spaventoso. Ecco, allora sembra che sia vero questo raduno di satanisti che avverrà a Sermoneta. Preghiamo perché siamo liberati da tutte le maledizioni, perché tanti giovani non cadono nei lacci di satan attraverso queste iniziative nefaste e spaventose. Dunque eravamo alla nona promessa. Benidirò i luoghi dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. Decima promessa. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime, darò il dono di commuovere i cuori più induriti. E tantissimi di voi mi danno testimonianza che attraverso queste dirette si sono convertiti e hanno iniziato un cammino di fede. Mi sono arrivati tanti messaggi di questo. E questa è una cosa bella. Non soltanto persone singole, ma anche intere famiglie che hanno incominciato a seguire insieme le dirette. Questa è una cosa molto bella. E alcune volte anche i gruppi che si sono riuniti per ascoltare insieme la diretta. non è merito mio. È il cuore di Cristo che mette in pratica le sue promesse. Questa è bellissima. Questa promessa vi consiglio di scriverla a carattere di fuoco nella vostra mente. Undicesima promessa. Meravigliosa. Il nostro nome, il nome di coloro che propageranno la devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù sarà scritto nell'intimo del Cuore di Cristo e non ne verrà mai cancellato. Cioè sarà scritto nel Paradiso stesso. Che meraviglia, carissimi. Non devono infiammarci di fervore per la diffusione del culto del Cuore di Cristo. Queste meravigliose promesse. E poi c'è la cosiddetta grande promessa. La promessa finale. La dodicesima promessa. Io ti prometto, nell'eccesso della mia misericordia, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno al primo venerdì del mese, per nove mesi consecutivi, la grazia della perseveranza finale. Essi non moriranno nella mia disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, servendo loro il mio cuore di asilo sicuro in quell'ora estrema. Questa è la grande promessa. Chi avrebbe fatto i primi nove venerdì del mese, chiaramente con le soliti condizioni, cioè con la confessione, la comunione sacramentale nella partecipazione alla Santa Messa e anche con le preghiere per il Santo Padre, questi, e anche il credo, penso che si possa aggiungere, non moriranno in sua disgrazia, cioè del cuore di Cristo, né senza ricevere i sacramenti, che è una cosa meravigliosa, un aiuto straordinario, ricevere l'eucaristia e l'unzione degli infermi, servendo loro il mio cuore di asilo sicuro in quell'ora estrema. E mi ha fatto molto piacere sapere, ad esempio, in questi giorni, di alcune persone che hanno iniziato i primi nove venerdì del mese. E mi viene in mente quello che la Madonna ha detto a Bruno Cornacchiola nell'apparizione del Trefrontale. Lui era diventato un protestante, aveva un odio mortale verso il Papa, lo voleva uccidere, aveva già preparato un pugnale con scritto «Morti al Papa», però gli appare la Madonna. E gli dice «Io sono qui perché quando eri bambino tua mamma ti ha fatto fare i primi nove venerdì del mese ed ecco perché Dio ha voluto che io mi rivelassi a te per ricondurti all'ovile santo». Più o meno ho sintetizzato a senso quello che la Madonna ha detto a Bruno Cornacchiola. Quindi è bellissimo, per esempio, una mamma in questi giorni mi ha detto che proprio oggi avrebbe fatto iniziare i primi nove venerdì del mese al figlio che ha fatto la comunione la domenica scorsa. Ecco anche voi carissimi, sia i nonni, le nonne, i papà, le mamme, fate fare i primi nove venerdì del mese fatti bene con confessione, santa comunione, le preghiere che vi ho detto e sicuramente i vostri figli si salveranno perché è una promessa del cuore di Cristo e Gesù non viene mai meno a quello che promette se noi osserviamo le sue parole. Bene carissimi, abbiamo concluso questa lettura delle dodici promesse adesso faremo un momento di preghiera. Grazie a tutti.